Madonna, ve la ricordate? La canzone? PUNZ, 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 PARAPARA, PUNZ, 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 ok, solo io, ok, già basta. Ah, si nota l'età. Ciao, bisizio e benvenuti sul mio canale YouTube. Il mio nome è Carmi e siamo qui riuniti oggi per fare una faccia completa, e quando dico faccia completa, in verità dico dall'attaccatura alta dei capelli fino a metà collo, perché il resto è solo pigiama, di Mesauda, Mesauda, Milano. Sinceramente era da un bel po' che volevo fare questo video, era da un bel po' che avevo collezionato un po' di prodotti, tra PR, tra alcune cose che mi hanno prestato, tra cose che ho acquistato, quindi avevo un pochettino tutto quanto pronto, ma oggi ho deciso veramente di sedermi su questo tavolino un pochettino traballante, o forse sono io che sono traballante con la quantità industriale di caffè, non lo so, ma andremo a pittarci, andiamo a truccarci, andiamo un po' a tirarci su di morale in questo periodo, che non è dei migliori, ma sapete cosa? Tutte le cose finiscono. Questo tunnel ha una luce, quindi noi continuiamo insieme e andiamo avanti, ma ci tengo velocissimamente a dire una cosa, appunto, primo questo video non è sponsorizzato da Mesauda, ma sono andato sul loro sito internet e ci sono un paio di cose che ci tengo a dire prima di iniziare. Primissima cosa, al momento le spedizioni sono sospese fino al 5 di aprile, ma tutto ritornerà alla norma dal 6 di aprile, quindi dal lunedì prossimo, salvo nuove disposizioni governative, quindi ci sta, quindi non preoccupatevi se in questo momento non siamo riusciti ad acquistare nessun prodotto, presto tornerà tutto come sempre. Ma una cosa che veramente ci tengo tanto, che è stata una cosa molto carina, dicono che per sostenere la ricerca ai medici che in questo momento stanno lavorando per tutti, abbiamo deciso di devolvere i 50 centesimi per ogni prodotto acquistato sul sito dal 23 marzo fino al 30 di aprile, quindi è una cosa molto molto bella, una cosa molto carina, immaginate che per ogni prodotto stiamo dando una mano, è una cosa bellissima, e infatti tutto quanto, cioè tutto il ricavato di questi 50 centesimi che si accumuleranno e speriamo saranno infiniti, andrà all'ospedale Spalanzani di Roma, quindi secondo me è una cosa molto bella quando si unisce il divertimento, il prodotto, la qualità, anche un po' di charity, di aiutarci l'uno con l'altro, perché alla fine siamo qui in questo mondo per essere felici, questa secondo me è l'unica cosa che veramente ne vale la pena, e regalare a qualcuno un sorriso è la cosa più bella che tu possa mai regalare. Quindi, vando alle ciance, perché come potete vedere io sono chiacchierone, voglio stare con voi il più possibile oggi, quindi vado a sorseggiare il mio caffè e poi ci pittiavo, perché questo brufolo è la mulignana di domenica, maronami. Eccoci qua Vivis, pronti per iniziare, ho già fatto praticamente la mia skin care come sempre, ho fatto il mio priming, perché non avevo nessun primer di mesado in questo momento, ma io direi di iniziare con il loro fondotinta, questo qua è il Cover Stick Foundation, lo apriamo, questo è il suo colore all'interno che è il, tu stai, Honey 603, io comunque come sempre tutto ho scritto giù, perché sicuramente tra tre secondi mi dimenticherò di dire che colore ho utilizzato, e abbiamo un pochettino dappertutto, devo dire che ultimamente la mia skin non sta avendo tantissimi problemi, sarà perché comunque siamo un pochettino chiusi in casa e io passo il tempo a farmi skin care, però è come sempre un pochettino più andante sul secco, quindi vado piano piano con il mio classico pennello e vediamo che succede. Iniziamo subito Vivis a dire che il color match è perfetto, veramente molto molto bello, il finish super delicato e veramente molto molto leggero, non si sente sulla pelle, perché certe volte i prodotti in stick possono essere un pochettino più pesantini come consistenza, perché comunque hanno un pigmento molto intenso, molto alto. Posso dirvi che ne andrò a mettere un pochettino di più sulla mia zona barba, per coprenza, ma per il resto mi sta piacendo, non ha naturalmente coperto questa cosa gigantesca che mi sta crescendo sulla testa, però sinceramente ho dubbi che qualsiasi cosa possa coprirla, quindi vado piano piano ad aggiungere un pochettino sulla barba, vado anche a fare un po' di più su questo brufolo che non mi piace per niente e vado un pochettino a tamburellarci sopra. E sì, la coprenza è aumentata, devo dire che non è uno degli stick più ad alta coprenza che io abbia mai provato, però ci può stare, soprattutto per un everyday makeup, per qualcosa un po' più easy, sembra comunque un finish molto molto bello, abbastanza luminoso, anche se ha comunque un finish molto più skin, quindi sì, mi sto un attimo confondendo, è un finish skin like, però luminoso, ecco. Cerchiamo di parlare un po' italiano, io vi giuro che in questo periodo che sono a casa, più del solito, dovrei leggere un po' di più, però no, io devo giocare alla mia Switch, quindi andiamo avanti con la Switch. E passiamo adesso al correttore, questo qua farò un po' di correttore e un po' di contouring, questi qua sono i One Stroke di Misauda, il primo è questo qui, che è stato abbastanza amato, come potete vedere, e ne vado a mettere un pochettino qua sotto, gli occhietti, faccio sul naso, Cupid's Boy, un po' al centro qui, un po' sulla chin, quindi veramente pochissimo, perché comunque si sfuma molto molto bene, e poi vado ad utilizzare quello che è un pochettino più scuretto, quindi il C70, l'altro era il C30, e faccio un pochettino di contouring, non si vedrà tantissimo, infatti dovrò prendere uno un pochettino più scuretto, però dà un po' la sensazione di warmth, quindi un pochettino più caldo, un pochettino più mediterraneo, un pochettino più bello all'italiana, quindi ne aggiungo giusto un pochettino qui sul nostro nasino, e vado con lo stesso pennello a sfumare il nostro highlighter, infatti come potete vedere si sfuma molto molto bene, e poi vado con un pennello un pochettino un po' più piccolino a sfumare il contouring. Passiamo adesso Beavis al contouring in polvere, e qui abbiamo due delle terre, le Sunrise, una come potete vedere ha un sottotono un pochettino più freddo, quindi un pochettino più grigio, e aiuterà tantissimo a fare un po' di scouting, mentre l'altra ha un sottotono un pochettino più caldo, e vi dico subito che questa qui è la 304, quindi quella fredda è 304, mentre quella un pochettino più calda è la 302, quindi io inizio un pochettino con quella calda, quindi vado a tamburellare un pochettino a prendere il mio prodotto, e ci vado un pochettino sopra su tutti e due i lati, e tendo ad avere un pochettino più un'altezza alta, quindi non vado sotto, ma ci vado un pochettino sopra, e continuo a picchiettare sullo zigomo, proprio così, e come potete vedere si sta sfumando molto molto bene, molto molto easy, sono comunque prodotti che devo dire hanno la bella pigmentazione, ma non sono blocci, non sono di quelli che una volta applicato sulla pelle formano una macchia, soprattutto perché io non utilizzo cipria ultimamente, e quindi quando vai con un prodotto in polvere, che comunque ha una pigmentazione, se non ha una formulazione buona di base, va ad attaccarsi tantissimo al fondotinta o al correttore che comunque è bagnato un pochettino sotto, quindi proprio vado in maniera super easy, come potete vedere, bello, nice and blended, aggiungo giusto un pochettino di più qui, e faccio anche un po' il mio nasino, e veramente con quello che mi rimane, proprio un velo super leggero, faccio anche la parte alta di stato strada che non finirà mai, così da avere un po' più un sun kiss, sapete, noi stiamo guardando continuamente il tetto di casa nostra, ma apparentemente ci stiamo abbronzando, ecco, diciamolo così, e abbiamo proprio una cosa easy and peasy, vado a girare il pennello dall'altra parte, prendo invece la terra che è un pochettino più fredda, tolgo l'eccesso, e questa volta vado leggermente sotto al zigomo così, così da costruire una base, e faccio quasi i movimenti, come se dovessimo fare tipo uno smile, infatti ci vado sotto di lato così, così fa un po' una cheeks bella alta, soprattutto verso il davanti, e poi una volta che ho sfumato, vado leggermente a tamburellacci sopra, così è tutto bello insieme. E naturalmente, Bivis, ci soffermiamo un pochettino di più sotto al nostro mento, così facciamo scomparire gli avanzi di cibo, che in verità non sono mai avanzati, ce li siamo mangiati, ma almeno abbiamo costruito qualcosa di più lifted, un po' più high, e una cosa ci devono dire veramente molto veloce, se vi interessa come video, stavo pensando di fare un altro I segreti del make-up, e questa volta di basarlo solo sul contouring and highlighting, quindi se vi interessa come video, volete proprio uno step by step, vi spiego un pochettino che tipo di contour utilizzare, dipendentemente da che tipo di face shape avete, quindi siete un pochettino più rotondi, un pochettino più squadrati, un pochettino più allungati come me, vi posso spiegare un pochettino di cose, quindi se vi va, fatemelo sapere, e faccio un bel segreto dei make-up, bello come piace a noi, e direi di iniziare con l'highlighter, andiamo un po' a illuminarci, ne ho due qui con me, che sono i Wow Glow, questo qui è Angel e questo è Paradise, li apro velocissimamente, hanno un pack molto molto carino, faccio anche vedere l'altro, e sinceramente non sapevo quale dei due prendi, sono molto belli riflettenti, vediamo il loro interno, hanno comunque uno specchio, infatti una cosa che mi piace è che tutte le polvere in questo momento hanno sempre avuto uno specchio al suo interno, queste sono le due colorazioni, una abbastanza più sull'oro, l'altra invece è quasi rose gold, vado a fare due swatches solo perché sinceramente non so se questa è troppo scura, quindi vado con questo qui come l'oro, ok, molto power, molto light, questa qua invece è rose gold, oh, mi sa che rose gold su di me vince, non so voi vivi, ma secondo me il rose gold può essere la svolta, quindi vado con il mio piccolo pennello, non ho bagnato assolutamente niente, vediamo un attimo che succede, ok, piano piano aspetta che io come sempre ho gli specchietti qua, non me li dimentico, vado su la parte alta dei miei zigomi, ok, molto molto delicato, vado ad utilizzare, l'abbiamo richiamata l'acqua santa di NYX, in verità è acqua bagnata, l'acqua asciutta non esiste, va andando avanti, e proviamo questa volta a bagnare il pennello, prendiamo un pochettino di più, vediamo che succede, e qui si può vedere, c'è una glow un pochettino più alta, non è super super beaming, che voi sapete sono le mie preferite, perché quando ho le guance troppo troppo illuminate, tipo uomo di latta, a me non piace, io preferisco tantissimo le inner glow, non delle formulazioni mie preferite, ve lo dico molto easy, ma sono abbastanza carini, cioè nel senso stanno funzionando, sono carucci, devo dire che forse mi piace un pochettino più l'effetto bagnato, perché sembra quasi un pochettino più melted into the skin, cioè molto più dentro, bello che esce, non lo so, mi sta piacendo un pochettino di più, non sta dando nessun tipo di separazione al fondotinta o niente, quindi carino, non mi piace, vado proprio in maniera super leggerissima a utilizzare, anche quello un pochettino più chiaro perché ce l'abbiamo, perché non metterlo, quindi vado un po' su, uuuuh, ok, caruccio, ok, mi sa che forse io e loro la prossima volta ci conosceremo un pochettino di più, perché bang, cioè questo highlighter, ok, adesso sto un pochettino esagerando, e voglio passare al blush, che mi avete già visto utilizzarlo in qualche video addietro, questo qua è il Rhythm and Blush, lo apriamo, ed è veramente un bel colore, matte, caruccio, ho visto che sono usciti con i nuovi blush, che sembrano abbastanza luminosi, mi ispirano tantissimo, voi sapete, io sono partito con l'interesse per i blush, questo, devo dire, è super pigmentato, quindi andate veramente in maniera molto delicata, mentre mi sembra che quelli nuovi siano un pochettino più soft, come metodo di applicazione, e mi sa che saranno perfetti per la, cioè, bella primavera, bella estate, quindi proprio, piano piano, vado a metterlo così, e voi sapete, a me piace mettere sempre il blush dopo il mio illuminante, così si sfumano molto molto bene insieme, vado velocissimamente a finire il tutto, vado a sorseggiare perché ne avevo assolutamente bisogno, mi avvicino con l'altro obiettivo, faccio le sopracciglia fuori dalla telecamera perché non ho nessun pronto sopracciglia, e poi si torna, quindi, fatemi tamburellare, eccoci qua Bibis, siamo tornati, siamo vicini vicini, abbiamo fatto le nostre sopracciglia, e devo dirvi una cosa, anzi, voi ditela a me, perché da quando noi siamo qui in quarantena, le mie sopracciglia vengono meglio del solito, scopertete che appena sarà il momento di ritornare alla nostra normalità, una sarà qua sopra, l'altra sarà laggiù, si odieranno per sempre, perché non riesco a capire, mi stanno venendo bene solo in questi giorni, e velocissimamente, ho utilizzato la Pro Pencil di Namla, e il Clear Set di Anastasia Beverly Hills, mentre per pulirle un pochettino sotto, e comunque fare la base dei miei occhi, ho utilizzato la mia Be Perfect Perfect Prime, quindi, questa era l'Ambara D'Am, e iniziamo subitissimo con la Eyeshadow Palette, questa qui è la Glam Eyes, questi sono i suoi colori all'interno, molto molto carina, mi piace perché sembra comunque abbastanza unica nel suo genere, sopra ci sono quattro colori matte, mentre gli altri colori, quindi la seconda e la terza riga, riga, linea, potete vedere meglio di me, perché se aspettate che io vi spieghi le cose bene, buona fortuna, sono invece metalliche, ci sono un paio di colori che veramente mi ispirano tantissimo, quindi io direi di iniziare, e vado con, facciamo con questo pennello qua fluffy, vado prima con questo colore, e inizio piano piano la mia classica crease, e poi vado a sculirlo, intensificarlo, e vediamo un attimo come viene, quindi proprio piano piano, lo prelevo, e lo tamburello, ok, come primo colore bibis, mi sta piacendo, non è esattamente identico, a come lo si vede, dentro l' eyeshadow palette, ma certe volte dipende anche da, comunque la base, l'incarnato sotto, il primer che utilizziamo, è molto più, freddo, molto più muovi, di quello che mi aspettavo, devo dire che comunque, la pigmentazione c'è, vado anche velocissimamente, anche sotto, super super easy, e cerco di concentrare più prodotto, verso l'esterno, e meno, verso l'interno del mio occhio, così da fare proprio, una sfumatura, un blending super easy, stavo dicendo, è pigmentata, ma non tanto da, fare problemi, nel senso, se sei alle prime armi, con gli ombretti, questa qua ti può dare anche una mano, perché mi ritrovo comunque, a andare a riprendere il prodotto, più e più volte, mentre se comunque, sei una persona, che è abbastanza esperta, e gli piace tantissimo, il payoff immediato, questa qua forse, ti stresserà un pochettino, o almeno ti verrà voglia di dire, dai, dammi qualcosa in più, però devo dire che, personalmente, la sto trovando abbastanza, caruccia, o almeno, questo è il primissimo colore, ancora una volta, possiamo giudicare, una palette di, 4, 8, 12 colori, per un solo ombretto, assolutamente, però, almeno possiamo dire, che si sta sfumando bene, e non mi sta rilasciando, nessun tipo, di fallout, infatti, quando poi, alcuni prodotti, sono, leggermente, meno, duper duper pigmentati, subito, va comunque, a salvare il fatto, che non avremo fallout, e voi sapete, io il baking sotto, non riesco a farlo, sono troppo secco, voglio andare con, questo colore, che si chiama, posh, che tra i, colori matte, sembra quello là, che è un pochettino, più, caldino, quindi vado con, forse un pennellino, più piccolo, vado con questo qui, ne prelevo, un po', e inizio, piano piano, a tavola, wow, questo sicuramente, molto, molto più pigmentato, del primo, ok, vado piano piano, a tavolerarlo sopra, e poi vado, nella mia crease, vedo che succede, sono ritornato, velocissimamente, col primo pennello, e vi devo dire, che come intensità, si va a perdere, un pochettino, non è super, super strong, e mi ritrovo, che comunque, una volta applicato, il prodotto, e poi sfumato, leggermente, si va a disperdere, abbastanza, quindi non mi dà, l'effetto, super power, super strong, però comunque, si stanno sfumando, abbastanza bene, insieme, voglio passare adesso, con uno dei colori, shimmer, e sinceramente, mi ispirano, quasi tutti, ma forse, quello che mi chiama, un pochettino di più, è l'unico, che forse, clasherà completamente, con il rossetto, che ho, perché ne ho uno solo, ma è questo verde, questo verde, mi sta guardando, ci stiamo fissando, e, mi sa che è arrivato il momento, quindi vado a prenderlo col dito, perché secondo me, col dito, wow, ok, togliamo un po' l'eccesso, dal mio ditino, perché ho paura che si, wow, ok, questo è veramente, un bel colore, poi ha tipo, delle piccole, specks inside, cioè tipo glitterine, al suo interno, che hanno un pochettino, di blu, che è veramente, troppo top, quindi verde e blu sopra, ok, vado proprio pianissimo, è successo, Bibis, quello che, non doveva succedere, nel senso, avendo utilizzato, questo colore, talmente tanto oscuro, sulla parte frontale, dei miei occhi, quindi alla parte interna, era veramente, troppo sbilanciato, non mi piaceva assolutamente, quindi, quello che sto facendo adesso, è sfumarlo, verso l'esterno, così da creare, proprio, uno smokey eye, degno di un nightclub, di lunedì, alle, al luna di pomeriggio, quindi, wow, chissà dove andremo più tardi, andremo in cucina, andremo in salotto, andremo nel bagno, sicuramente, perché, con tutto questo caffè, mi scapperà la pipì, quindi, io, provo a vedere che succede, l'unica cosa che vi dico, si sta sfumando, molto molto bene, non mi sta lasciando, nessuna imperfezione, quindi mi piace, però, col pennello, tutto l'effetto glitteroso, bello, se n'è completamente andato, quindi mi sa che, una volta sfumato, quello che voglio sfumare, ritorno col dito, e ce li aggiusto, un pochettino sopra, così da avere, l'effetto glitteroso, però, sì, proprio un nightclub, stasera, tuz, 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 vi posso ammettere, Bibis, che questo look, nel mio cervello, non era proprio nato così, però, mi sta piacendo, cioè, sinceramente, io così, di lunedì, vado a cattare le banane al supermercato, con lo smokey eye, non so voi, ma certe volte, quando mi trucco, e piano piano inizio a vedere, che cosa sta succedendo, mi partono delle voci, dentro di me, e questa è una cosa positiva, perché vuol dire che ci stiamo divertendo, quindi, diciamo di finire questo look, con un altro ombretto, perché questi non erano abbastanza, e vado a fare un pochettino di punto luce, e voglio utilizzare questo colore, che si chiama Slay, quindi ne prendiamo un pochettino, tolgo l'eccesso, e vado qua, nell'inner corner, forse mi serve, un pochettino, di più, che no, forse me ne serve, un pochettino, tanto di più, vediamo, oh, qua ha fatto presa, subitissimo, quindi, andiamo proprio a recuperarlo, e, andiamo a metterlo qui, nel suo interno, uh, ok, una cosa che però, voglio assolutamente ammettervi, che sono abbastanza scioccato, è il fatto che, comunque, io ho utilizzato talmente, tanto nero, ed ho spiaccicato, l'ho sfumato, ho fatto praticamente, i salti mortali, con questo circo, e non c'è nemmeno un po' di fallout, cioè, io veramente, sono molto, molto contento, non ho dovuto ritoccare assolutamente, la mia base, quindi, grazie Mesauda, per aver salvato la giornata, sapete, il mio meeting, nel salotto, poi, nel bagno, sono molto importanti, per me, soprattutto, quello nel bagno, basta, 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 speriamoci qui, andiamo con, Lash Infinity Mascara, diciamo che abbiamo bisogno, un po' di ciglia, infatti, mi sa che andrò a mettere, anche queste ciglia finte, che sono le, Mary Lynn, e vado anche a provare, la loro colla, perché non ho mai provato, la colla, di ciglia finte di Mesauda, quindi, vado velocissimamente, prima a piegarle, quindi faccio, un po' di piegaciglia, le tiriamo, un pochettino su, verso l'alto, con uno smokey eye, così intenso, sinceramente, le ciglia finte, sono quasi d'obbligo, perché sennò, si perdono completamente, quindi, le tiriamo, su, 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 le mascheriamo, e le cigliottiamo, mi sa che è arrivato il momento, di posare i prodotti occhi, perché sennò, qua continuiamo, e facciamo praticamente, i grattaceri di New York, quindi, vi prego, capitemi, ho dovuto smettere, prima che, non c'era via di ritorno, ma, sinceramente, via di ritorno, io già non la vedo, ma, passiamo adesso, al rossetto, naturalmente, rossetto, rosso fuoco, perché, voi sapete, sono i miei preferiti, questo qua si chiama, Sultry, ed è della collezione, Extreme Matte, quindi, secondo me, Matte, con un pochettino di glitterino, è uno dei, smoky, classic look, che io adoro, quindi, vado a, utilizzare, ok, non ha un odore, preciso, o almeno, non ha un odore, molto pungente, quindi, ci piace, e, vediamo, che succede, ok, il pigmento c'è, e, vediamo se, riesco a fare, le mie labbra, anche senza, un elipencil, ed eccoci qua, Vivis, questo è il look completo, che devo dire, muah, è venuto, veramente bene, non so perché, ma questo, mi piace ancora di più, sarà anche perché, è un made in Italy, e quindi, mi sento ancora più, strong and powerful, vi prego, non guardate il mio pigiama, e, niente, grazie come sempre, per essere qui con me, vi lascio adesso, alle clip, con e senza luci artificiali, così, insieme possiamo giudicare, questo lucarello, e mi raccomando, fatemi sapere, che cosa ne pensate, io, vado a sorseggiare, ancora una volta, caffè numero, non ve lo dico, perché me ne vergogno, metto il ciuffo davanti al brufolo, nuovamente, e come dico sempre, always remember, like if you like, hate if you hate, and until next time, muah, you're welcome, e ci vediamo, tra qualche giorno, ciao ciao, I need another coffee, I need another coffee, Grazie.